Io sono contento di essere in giù Pinaro, e tu? Io pure, sono già pronto, eccomi qua! Da dove andare noi? Guarda! Poi lo manifesto per il nostro arrivo fatto! Oh yeah, good! Ok, guarda, la strada possa essere quella, noi andiamo di là, noi stiamo aspettando! Attenzione, altra macchina nel passare! Qui a Taranto non si capire nulla! Io sarei stanca di camminare! Qui a Taranto, USA! Fai lì a mamma, come da essere contento e molto bene che l'hanno preparato tutte le cose nostre da Randi! Sanno i calabusi, i ghi e i ghiere! Più c'è in America, kid, su un scordo non ho piattuto il tubettino con la cozza! Un pesce arrustuto, la cozza gratinata! E ovun palessa mamma! Il tutto accompagnato da un buon primitivo di Manduria quando sarebbe da Gondor! Rammarrà una bocca aperta la Maracona! Noi essere arrivati! Nate due piccole passettine, noi essere già arrivati! Oh yeah! Non vedo no! Forse essere, essere di qua! Yeah! Come on, come on! Let's go! Ok, yeah! Loro essere loro! Hello! Hello! Buonasera! 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 L'ho canciato per nendo! Buonasera! Guarda si bella mamma! Uè Phil! Tu vuoi essere il coccolo vacante di mio cugino? Coccolo vacante! Ma pure io l'ho canciato per nendo! Grazie! Non so che pigliare come uno complimento! E lei? Essere la mia mogliera! Io sono i ceci! Loro sono i ziali! No! E lui essere? Lui essere mio cucino Phil! Coccolo vacante! Lui coccolo vacante! Piacere coccolo vacante! Mua! Mua! Tuo cugino avrei parlato sempre a me durante il viaggio del tuo coccolo vacante! Qua! Avere contatto di quando io e me essere scolacchiatiti! Affirma quante ne abbiamo combinata presti da piccini! Oh ma voi stavate aspettando noi vero? Sì sì sì! Noi siamo venuti un po' in anticipo! Abbiamo fatto anche un piccolo giretto a Taranto! Very good! Non è che è molto cambiato Taranto eh! Non so se... Vabbè io puoi dire a voi cosa pensare! Ora però io vorrei ricordare a voi che noi sabato 6 novembre alle ore 21 sarei qui al teatro Padre Turozo per iniziare la segna! Dopo 2 anni avrò l'avere chiamato noi dall'America per iniziare la segna! E poi siccome non bastare una sola serata mi ha detto Nicola vieni anche tu il giorno dopo a fare serrata quindi ci saremo anche il 7 domenica alle 19! Non è tutto bene eh! Bene! Bene! Gui! PAPA AMERICANO!